Altro argomento, perché anche questa è una cosa che ci hanno chiesto tantissimo Questo è il secondo argomento di quelli giganteschi, siete pronti? Sì, sì, ci hanno chiesto tantissimo la nostra storia di YouTube E ovviamente come ci siamo conosciuti Che in pratica le domande riassunte sarebbero Come ci siamo conosciuti? I nostri veri nomi? Se siamo fidanzati? Se abitiamo insieme? Un po', insomma, è tutto lì Ok, c'è anche come ci siamo incontrati Te lo stavi dimenticando Io ho il tuo quadernino bellissimo e non dimentico nulla Allora, inizio io Allora, come ci siamo conosciuti? No, aspetta, diciamo prima i nomi, dai, è più semplice Nomi Sergio sarebbe Veronica Anche se in realtà il mio primo nome è Stefano Lui si chiama Io mi faccio chiamare Sergio da quando ho due anni Non si sa perché, è più bello Stefano come nome Esatto Io te lo dico Diciamo che sto cambiando il nome tramite il canale Ovvero sto iniziando a utilizzare Stefano, quindi con Stef E un po' il significato è quello Perché è una storia un po' particolare Diciamo che stupivo fisso i miei amici Tipo dopo cinque anni Li facevo, tu non sai il mio vero nome E li fregavo ed era divertentissimo L'ho sempre fatta questa cosa Quindi solo per quello l'hai fatto Sì, in pratica quindi Stef viene dal suo vero nome E anche il mio nick, Feriniki È praticamente il mio nome, Veronica Ok Tradotto in greco antico Io non ho mai avuto troppa fantasia per i nick Lo sappiamo Diciamo quando ho iniziato a giocare Ho scelto questo nick perché mi piaceva tantissimo Ed è rimasto sempre questo In sostanza è quello Esattamente Come ci siamo conosciuti Ci siamo E quando anche? Circa quattro anni fa, vero? Circa quattro anni fa Forse a settembre sono quattro anni che ci conosciamo Ok E ci siamo conosciuti facendo parkour Può sembrare una cosa troll Ma scusa, scusa, scusa Allora guardatemi Non vi sembro una ragazza che può fare parkour in modo perfetto? Assolutamente no Sì Allora c'era una palestra di parkour qua a Cagliari Ok Io mi sono iscritta e ci siamo conosciuti là Esattamente Molto romantico, vero? Sì, sì, sì Totalmente casuale Ci siamo conosciuti a parkour E per di più il primo periodo credo che non abbiamo neanche mai parlato Tipo nei primi due mesi Forse non ci siamo neanche mai salutati Anche perché io ero quello figo Che faceva tutte le cose Lei era quella che riuscivamo anche a saltare una pionella E quindi Non è vero Non è vero Sei cattivissima È vero Io poi principalmente sono andata in palestra sola Proprio sola Non conoscevo nessuno Siccome sono abbastanza timida Quindi ci ho messo un po' prima di chiacchierare insomma con tutti Esattamente Poi cosa passiamo? Allora siamo fidanzati sì Quindi questa la diciamo velocissima Fidanzati da circa quasi tre anni e mezzo Allora sono tre anni e mezzo Consideriamo il primo appuntamento E c'è una cosa divertentissima per il primo appuntamento Ovvero che la data è il 21 dicembre del 2012 Ovvero il giorno della fine del mondo Praticamente lei se l'avessi lasciata sola avrebbe distrutto il mondo Perché sapete quanto è malvagia Ed era la fine del mondo vera E invece me la sono sorbita io Mi sono sacrificato per il mondo L'ho presa così si è calmata e non ha distrutto il mondo Quando te l'hai pensata a questa? Tanto tempo fa ma non te avevo mai detta Io sono l'eroe del mondo ma nessuno lo sa Ho salvato il mondo dall'apocalisse che i Maia avevano predetto Dall'apocalisse di Ferinichi Questi Maia non c'erano arrivati Non c'erano arrivati a predire Ho apprezzato questo mio gesto è stato un grande sacrificio Non ci provare guarda non ci provare Poi allora quindi ricapitoliamo Ci conosciamo da circa 4 anni Ok Siamo insieme da circa 3 anni e mezzo Ok Così almeno Ci siamo incontrati facendo parkour Facendo parkour Sì sto facendo mente locale per cercare di non dimenticarmi Ok Di non dimenticarmi nulla Manca Abitate insieme sì Sì abitiamo insieme da 2 anni più o meno Circa Non me lo ricordo più Circa 2 anni Comunque viviamo a casa di mia madre Perché non abbiamo i soldi per una casa nostra Quindi viviamo chiusi in una stanza Io vivo da lui perché mi hanno buttato fuori di casa Perché io facevo il fight club a casa mia Ma è tantissimo Facevo risse capito I miei genitori non mi hanno più voluto a casa Quindi sono andata Cose tristissime In ogni caso viviamo in una stanza praticamente chiusa Quindi non viviamo per i cavoli nostri Speriamo che prima o poi ce la faremo Ma ora come ora no Ultima cosa Questa è tostissima Cosa ci ha colpito l'uno dell'algio Questa ci ha chiesto Only Revenge Only Revenge Allora lui vedi ci segue Lui ci segue dallo streaming Dallo streaming Penso sia l'unico rimasto dallo streaming O comunque uno dei pochi Così tanto frequente senza dubbio Infatti noi lo chiamiamo il veterano Il veterano Perché appunto esiste da sempre Se lo vedete lui è il veterano Del nostro canale Perché ci segue Ormai da due anni Da due anni Da quando siamo nati Da quando siamo nati Lui c'è sempre stato E ci ha chiesto Cosa ci ha colpito l'uno dell'altra E ci sottolinea Risposte serie Perché comunque Guarda quella della fine del mondo Ti sembrava una risposta seria Era serissima Perché è vera Era una domanda vera Comunque il primo appuntamento Siamo andati a vedere Il primo dei tre film dell'Hobbit Che faceva schifo Ci tengo a precisarlo Già avevamo intuito Che eravamo nerd Sì il primo appuntamento Siamo andati a vedere l'Hobbit E vedi anche il primo appuntamento Romanticissimo Molto molto Come il parkour A fare parkour Sempre molto romantici Allora Ti lascia colpito l'uno dell'altro Non lo so Sono difficili Dell'altro Personalmente niente E stratta una cosa strana Cerco di spiegarvelo Anche se ancora Non me lo spiego del tutto io Ovvero È andato tutto da solo Cioè Al tempo Tipo io ne avevo parlato Anche con lei tempo fa E l'ha provato anche lei E È una cosa che non ho realizzato Mentre succedeva Diciamo che Dopo che abbiamo iniziato a parlare Si è evoluta la relazione Ma non stavo realizzando Che stavamo andando Appunto Verso quel tipo di relazione E quindi non è che pensavo Ah è bellissima Quanto mi ci vorrei fidanzare No È stato tutto molto naturale E quindi non c'è stato nulla Che mi ha colpito particolarmente Perché è stato molto naturale Molto tranquillo Vedi Adesso Ai fail Avrei potuto dire Il momento più imbarazzo della tua vita Questo No vabbè dai Sì In sostanza È stato anche per me quello Adesso cosa prezzo Niente Dopo che ci siamo conosciuti Esatto No sì In sostanza è stato quello È stata una cosa molto naturale Alla fine non è come quando conosci una persona E dici Ah ci voglio stare per forza assieme Come delle volte capita Alla fine ne vedi già uno Pensi già a chissà che cosa E magari neanche succede Quindi Non lo so È stato tutto molto Come nei film Esatto Il colpo di fulmine E poi una cosa che mi ha colpito È che Sergio Stefano Come ti vuoi far chiamare Stef Andiamo È una persona molto sincera Che non è da tutti questa cosa Cioè è uno di quelli Che se ti deve dire una cosa Te la dice Anche se ti fa rimanere malissimo Ed è comunque una cosa Che apprezzo molto Perché Mi ci fido alla fine Più di me stessa Insomma Altre domande che ci hanno fatto Sono Sulla scuola Riguardano la scuola Un argomento delicato È un argomento davvero delicato Per entrambi Allora partiamo dalla più semplice Che scuole superiori abbiamo frequentato Puoi dire prego Il liceo pedagogico Ok io invece ho fatto lo scientifico Purtroppo Viva il latino È bella E poi ci hanno chiesto appunto Che tipo di Anche io facevo un sacco di latino Però non c'entrava nulla Ma facevo un sacco di latino E poi che tipo di studenti eravamo Esatto Eravamo sì perché l'abbiamo finita la scuola Ok Allora Bravo iniziare tu Tu eri il tipo di studente Che se fossi stato in classe mia Ti avrei odiato Perché? Perché sei la persona Che non studia niente Sì Rimane a nerdare Perché non fa altro Sì Però di quelle che legge Cinque minuti una cosa E va benissimo l'interrogazione Spiegatemi come è possibile Esattamente Io praticamente ho passato Tutte Inizio Tipo dalla seconda media Fino alle fine delle superiori Che nerdavo tantissimo Prima con World of Warcraft Poi con League of Legends Io facevo una cosa come Otti ore al giorno Anche andando a scuola Mi addormentavo alle 2 del mattino E mi risvegliavo alle 7 Quindi rinunciavo a dormire Com'è possibile? Com'è possibile? Era estenuante Infatti poi sabato Mi alzavo alle 15 Tipo una cosa del genere Per recuperare Tutto il sonno Facevo questa vita E ovviamente i compiti Io non li facevo mai Cioè tutti i giorni Andavo a scuola Che un po' copiamo Un po' non copiamo Non sei un esempio Ogni tanto Andavo via prima da scuola Ne facevo in tutti i colori Ti hanno un esempio da seguire Quindi facciamo subito la mia storia Ok Io allora La classica studentessa Che per andare bene Studiava come un mulo Ok Cioè sinceramente Studiavo tantissime ore Ci tenevo ad andare bene a scuola Infatti L'ho sempre finita in modo regolare E niente Cioè andavo bene Ma mi dovevo fare Un mazzo enorme Ti dico la verità Era una secchiona Sfigata Poverina Ascolta Tanto non avevo amici Quindi tanto volevo passare a studiare Che ti devo dire Che ti devo dire Comunque ci tengo a precisare Infatti ho detto Che non ero un gran modello Che la scuola ragazzi Può non sembrare importante Può sembrare inutile Anche in latino ad esempio Può sembrare Ma che cavolo serve Una lingua che non si parla Blablabla Ogni cosa ragazzi Allena il cervello Vi allena il cervello Vi permette di essere Molto più allenati Di andare ad affacciarvi Ad un'altra cosa E impararla più in fretta A capirla più in fretta Insomma È utile Qualunque cosa matematica Qualunque materia Comunque vi allena il cervello Vi abitua Vi permette di capire Più in fretta le cose Quindi Se ne avete un minimo di voglia Studiate comunque Anche di ragionare meglio Perché in certe situazioni Guarda Io ero quella prima Che non sopportavo la scuola Perché era molto Molto pesante Per come l'ho vissuta io Però poi finendola E crescendo Soprattutto e maturando Perché alla fine Quando sei più piccolo Magari certe cose Non le noti È davvero molto importante Quindi non seguite Steph Ma seguite me Esattamente Poi ultima cosa Esame di terza media Qua direi che è abbastanza semplice Ripassa bene Stai tranquillo Tanto è facile Mi ricordo che al tempo Ero tantissimo in ansia Per il più Io avevo fatto gli orali Il giorno del mio compleanno Quindi mi ero allecchinato Tutti i professori L'avevo fatto ben sapere A tutti i professori Ma tranquilli È davvero facile C'è tantissima ansia Quello è normale Ma io ce l'ho sempre Non appena entrate Passa tutto Gli iscritti sono facilissimi Gli orali Viene più ansia Ma appena entrate Dura davvero poco E finisce subito L'esame di terza media È davvero semplice Quindi non ti preoccupare Allora Vera ci chiede Preferite joystick o tastiera? Tastiera Totalmente Ho sempre giocato al computer Il joystick è comodo Per giocare da con i catti Quando si vuole stare Un po' più tranquilli Ma quando bisogna Annerdare duro Tastiera e mouse Sono imbattibili Per certi tipi di giochi Preferisco il joystick Ma generalmente Uso quasi sempre la tastiera Tipo Dark Souls joystick Perché altrimenti Impazzisci Eh ma sì Ci sono certi giochi In cui ho dato Ma generalmente Quasi sempre tastiera Per sempre Allora Francesca Ricagno Invece ci chiede Qual è il vostro primo pensiero Quando vi alzate la mattina? Ok Caffè Il mio è aprire il canale Per controllare Se è tutto a posto Qual è il secondo? Il caffè viene prima di tutto Mi dispiace Io mi sveglio Io mi sveglio come uno zombie È un po' impressionante Prima o poi dovrei registrare questa cosa No 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 Non è bello da vedere No Praticamente c'è la sveglia Appena parte la sveglia Io mi alzo dal letto così Boom E mi alzo in piedi subito E va al pc Tempo fa avevo bisogno Di quei dieci minuti Per ingranare un attimino Io tipo ho bisogno di tre ore Per ingranare Adesso invece parto dritto Per quello il caffè Capito Subito È una figata E comunque guardo subito il canale Controllo subito i commenti Sono bravissimo Altra domanda Ci chiedono Se faremo mai Player Girl Scusa Player Girl Ci chiede Di fare una sfida Tra di noi Su ogni videogioco Questa è una cosa Che abbiamo pensato parecchio In effetti Cioè abbiamo pensato parecchio Pensiamo anche di poterla fare Non credi? Esattamente Abbiamo pensato un pochettino A come farlo Perché non vogliamo Che si basi semplicemente Sulla bravura di un gioco Semplice Vogliamo fare qualcosa Di più divertente Qualcosa di un po' più Stravagante Particolare Cosa ne so Magari su The Sims Costruire un determinato Tipo di edificio entrambi E chi lo fa più bello Vince Cose del genere Ci stiamo lavorando un po' Adesso è arrivato Pokémon Go Che ci toglie tutte le energie E tutto lo spazio Per creare nuove cose Ma appena Pokémon Go Diciamo lo finiamo Comunque calerà Un pochettino Iniziamo a pensare A qualcosa del genere E cercheremo di farlo Un po' in tutti i giochi Allora qua ci fa una domanda A Letizia Cometti Spero di aver letto bene Il cognome Perché ci aveva chiesto Di pronunciare bene il cognome Adesso non so Se si pronuncia giusto Cometti Secondo me sì Secondo me sì Comunque siete degli alieni Perché la vostra mente È troppo diabolica Per essere così Ci siamo allenati tanti anni Per essere così perfidi Serve duro allenamento Io sono nata così Lei è bravissima È davvero più brava di me Mi viene naturale Cioè non posso fare nulla Prossima domanda Siete menuti a cavallo Se no voglio vedere un video In cui ci provate Allora Vedi forse questo L'avrei dovuto aggiungere Sempre nei fail Ok Allora io quando avevo Circa dieci anni O poco più Sinceramente non ricordo Perché l'ho mezzo rimosso Questa cosa Ok I miei genitori ci hanno portato A me e i miei fratelli In un maneggio Io non volevo salire su un cavallo Perché praticamente Li vedevo giganti Pensa io piccolo I cavalli sono enormi Di solito fanno salire sui poni Ai bambini No mi hanno fatto salire Su un cavallo gigante Ok Era grande tipo 20 metri In secondo la mia mente Eh sì sì E hanno cercato di convincermi Perché i miei genitori Propriano di quelli Dai prova la cosa Prova la cosa Prova la cosa Alla fine mi sono fatta convincere Io soffro molto Di vertigini È stata l'esperienza Guarda forse una delle più brutte In tutta la mia vita Mi ha profondamente scioccato Avevo il terrore Di stare su quel cavallo Stavo sopra così Con gli occhi chiusi Tremando E non mi facevano scendere Capito È stato terribile Terribile Detto questo Faremo un video A riguardo Prima o poi Io non ci salirò mai più Guarda mi dispiace Io adoro gli animali Adoro anche i cavalli Non ho niente contro i cavalli Lo voglio specificare Ma sono Certo Profondamente scioccata Non penso di riuscire Cioè io anche quando li vedo Non ci sto mai vicina Perché ho il terrore Ho davvero il terrore Da Pokémon Ghost Ci stiamo dicendo Apprendo un po' una strada Fuori dai gameplay Fuori dal fare questo tipo di cose E a me piacerebbe proprio Oltre che fare qualche video Appunto dove passeggiamo Cose varie Cose standard Anche fare dei video Dove proviamo Delle attività particolari Come appunto può essere Andare a cavallo Quindi in un futuro Almeno io salirò su un cavallo In un video Sarà la prima volta Perché no Io non sono mai salito su un cavallo Ma sono molto curioso No vabbè Magari lo faremo Quando avremo l'attrezzatura migliore Esatto Perché ora come ora No ci siamo fatti prestare Una videocamera Perché non abbiamo Assolutamente nulla E non lo so Io non lo farò Al massimo ti riprendo Prossima domanda Siamo messati fuori dall'Italia Allora io sono stato A Barcellona Sono stato a Praga E sono stato In giro per la Francia Un po' ovunque Poi ho fatto Quasi tutta l'Italia E basta E basta Sì ho finito Ho finito Il posto più bello Di questi Decisamente è Barcellona Eh immagino Immagino Allora io principalmente Sono sempre partita per Cioè da sola Senza i miei genitori Intendo Per andare a vedere concerti Ok Non ho mai fatto altro E sono andata Fuori dall'Italia Perché gli altri posti Sono tutti in Italia Appunto Due volte a Parigi Tutte e due le volte Per un concerto Far preferito Eh questo me li hai Ci tengo a precisare Che me li ha copiati Perché piano piano Gli ho fatto venire Questa passione Allora Non il calcio Io seguo tanto calcio Ma non è uno sport Che stimo Perché ci sono tante cose Che non mi piacciono Come sport Tanti atteggiamenti L'ambiente non mi piace Ci sono tante cose Che del calcio Mi fanno quasi schifo Anche se poi Lo seguo davvero tanto E i miei sport preferiti Infatti sono il tennis E la MotoGP MotoGP Guardo tutte le gare Addirittura tutte le prove libere Qualunque cosa Impazzisco Per ogni gara Entro in ansia Due ore prima della gara E il tennis Lo seguo davvero tanto Anche se durano troppo le partite Quindi un po' meno Rispetto a MotoGP Ma mi piacciono entrambi tantissimo Preferiti da seguire Perché al momento Non faccio neanche sport Ne ho fatti tanti Però alla fine Non c'entrano nulla Penso che si intenda Proprio quello preferito Anche da vedere Tennis e MotoGP Uguale Diokovic come tennista E ovviamente Valentino Rossi Anna nanna Diteci 5 cose a testa Che odiate 5 cose a testa Che vi piace fare Vai prego Io le ho scritte Per paura di dimenticare Ok vai Allora che mi piacciono Ovviamente i videogiochi Ok Film e telefilm Anime Le ho riacchiusi tutte assieme Ok Diciamo guardare cose Ok Youtube Perché ovviamente Mi piace YouTube La musica E i dolci Perché io adoro Dovevi per forza mettere i dolci Vero? Sì Ascolta Dalla quantità industriale Che ne mangio Dimmi se Se non li potevo non mettere Dai Allora 5 cose che mi piacciono Videogiochi Film e telefilm Anime Io li ho messi separati Mi è venuta così Va bene Non mi criticare Ok Sport e YouTube Più o meno sono le cose Che faccio di più In un Nel mio tempo libero Diciamo Quindi sono queste 5 cose 5 cose che odi Le dico prima io Visto che ti ho detto prima Le altre Ti piace? Ok Quello che vuoi Quello che vuoi Fai come ti pare Allora Odio l'altezza Odio stare in qualunque posto Dove c'è un bel panorama Perché non sopporto stare Nei posti alti Proprio minimamente Odio i posti chiusi e stretti Tipo io non salgo in un ascensore Manco se mi pagate 500 euro Sì è vero è vero Odio l'alcol Odio le persone che bevono Per divertirsi Quindi in generale Così tanto l'alcol ovunque È una cosa che non ho mai Apprezzato E che non ho mai fatto molto Perché proprio non mi piaceva E tutti intorno a me Lo facevano È stato un periodo Abbastanza difficile Ti stai facendo perdonare Per il discorso della scuola Vero? Ti stai facendo perdonare No no è vero ragazzi È davvero vero Poi quarta cosa Infatti la discoteca È l'altra cosa che odio Perché non è divertente Andare a ballare Perché tutti bevono E c'è un clima Che non mi piace minimamente Anche se mi piace tantissimo ballare Ci tengo a precisare Ma lo sapete già Questo ormai lo sa chiunque Allora ballare È una cosa terribile È davvero una frustrazione Ragazzi dovremmo fare Una discoteca per set Solo per me Ricordatevelo La dovremmo fare tutti assieme È l'ultima cosa E poi infine Questa è bellissima La gente che si lamenta sempre Ovvero Ferenichi In generale Quelle persone Che nella vita Stanno lì a lamentarsi Tutto il tempo Senza provare a fare qualcosa Per migliorare Perché comunque Io mi lamento ogni tanto Dai Lamentarsi è inutile Lamentarsi Diciamo Mette di malumore Le persone che siano intorno Quando invece Ci si può stringere i denti Ognuno ha problemi E di fare qualcosa Questa era un po' più filosofica Un po' più seria L'hai presa molto Super sale Esatto vai vai Ok le cose che odio io L'acqua profonda e i pesci Lo sappiamo La cosa che odio Se mi mettessero in acqua Quei pesci che ti passano sotto Guarda Faremo anche quello Un video Cioè i brividi Se la pensarci così Un po' come i cavalli Ok Gli aerei Gli aerei Perché non sopporto L'altezza E non sopporto Gli spazi chiusi Quindi spazio chiuso in alto A me la cosa Che più da fastidio Ho ancora di più Dell'altezza Che mi da fastidio Soprattutto a me Non tanto lo stare in alto Ma non poter guidare Io l'aereo Guarda Quello lo ringrazio Se a me mettessero A fianco al pilota Sarebbero tutti morti Mi basterebbe stare seduta A fianco al pilota E vedere che tutto è ok Io starei tranquilla Non sopporto Non poter fare le cose io Ed essere in balia Di un'altra persona È una cosa che non reggo I rumori forti E comprendono le urla Infatti la gente Che si ubriaca Fa casino Perché ci sono sempre Nella nostra via sotto È sempre pieno di gente Che urla Non mi fa dormire Soprattutto d'estate Quindi è una cosa Che proprio non sopporto La lag nei videogiochi Che mi fa urlare davvero tanto Ne soffre sempre Perché abbiamo Una connessione Con la fibra Che è molto buona Però il router Che abbiamo Che è quello della telecom Fa schifo Quindi spesso e volentieri Anche se non abbiamo Problemi di connessione Ferinichi lagga Quindi è una cosa che odio E poi un'altra cosa È il mio telefono Il mio telefono Perché è vecchio È lento E non posso giocare A Pokémon Go Nel mio telefono E neanche a Clash Royale E neanche a Clash Royale Infatti Quindi a breve lo cambierò E il giorno che lo cambio Prendo un martello E lo spacco in due Faremo il video Ok Su Instagram Esatto Passiamo ad un'altra cosa Super nerd Ovvero i videogiochi Prima di tutto Come è nata la passione Per i videogiochi A me in modo naturale Cioè non ricordo Un momento in cui Sono stato conscio Quindi diciamo Da quando ricordo In cui non giocavo ai videogiochi Io già da bambino Era attaccato Ricordo tantissimo Crash Bandicoot Proprio i primissimi Quindi ho sempre giocato Non mi sono mai staccato Non c'è mai stato Un momento della mia vita In cui non ho nerdato A videogiochi Quindi è da quando Sono nato Io principalmente uguale Giocavo Anziché con mia sorella Con i miei fratelli Con i miei fratelli Poi andavamo Ma schiaccio Ma schiaccio Lo so Lo so Stai zitto Stai zitto E poi andavamo A casa dei nostri cugini Che il più delle volte Avevano la Nintendo E la Playstation Che noi non avevamo E giocavamo Giocavo a me picchia duro Io battevo tutti Bravissima Bravissima Forse è nata così Ho capito Che almeno nei videogiochi Avresti vinto Io facevo i peggio tornei Di FIFA e PES Al tempo giocavo PES Ed ero bravissima Era davvero bravo Ho giocato anche i giochi di calcio Non mi ricordo Era un gioco vecchissimo Non mi ricordo neanche il nome Lo giocavo tantissimo Con i miei fratelli Facevamo i tornei Ma non mi ricordo il nome Perché è talmente vecchio Quelli con i personaggini In 8 bit È davvero Ho capito Vecchissimo Poi Allora Ci chiedono anche Videogioco preferito E gameplay preferito Penso che gameplay Si possa ricollegare Alla serie Alla serie E poi che registriamo Quindi la serie Che ci piace di più registrare Per quanto riguarda Invece il videogioco preferito Ce ne sono tantissimi Che mi sono piaciuti Ma World of Warcraft Ragazzi È stato quello che Senza dubbio Mi è piaciuto di più Perché ho iniziato a giocarci Che ero in seconda media E fino tipo Alla seconda superiore Non mi sono mai fermato Ho vissuto lì dentro Molta gente mi diceva sempre Te ne pentirai Di tutto quel tempo Che hai passato a giocare A questo videogioco E non spreco di tempo Lo capirei da grande Io invece rimpiango Il periodo in cui World of Warcraft Era così bello E divertente Perché era fantastico Io rimpiango gli anni In cui magari Mi è venuto in mente Anche di uscire Perché sarei potuta Rimanere ancora di più In casa a giocare Sinceramente Quella è l'unica cosa Che rimpiango E poi un altro Che mi è piaciuto tantissimo A fianco a World of Warcraft Dark Souls Ma che non è alla pari È il primo Dark Souls Che è davvero 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 bello Sono belli sì Io li ho giocati poco Li ho giocati poco Quelli però Sono davvero davvero belli Non ci provare Non ci provare Nel fatto è che Io mi sono sempre ripromessa Di rigiocarli tutto Ma non abbiamo tempo Esatto Ma quando abbiamo iniziato YouTube Non ho più tempo Di giocare ad altro Che non sia Che non sia quello Che registriamo per il canale Quindi principalmente Ma cercheremo Di prenderci un'ora al giorno Per giocarci Final Fantasy XV Quando è Che abbiamo già preordinato Già preordinato Non vediamo l'ora che esca Non credo che ci faremo video Perché per PlayStation 4 Sono scomodi E non credo che piacerebbe A molti di voi Ma ci giocheremo Dobbiamo riuscire a finire Questo gioco A trovare il tempo Di farlo E sarà bellissimo Gameplay preferito Invece nel canale Attualmente a me Quello che diverte di più È The Sims Esperimenti Sociali Mi piace tutto Ma The Sims Esperimenti Sociali Ci permette ogni volta Di fare tante cose creative Abbiamo molta interazione Che con voi E quindi ogni volta Mi diverto troppo A pensare alle cose Da fare nel video successivo Questo è un po' difficile Perché allora A me piace tutto Cioè non c'è una serie Che mi annoia Ad registrare Altrimenti non la faremo Perché Sì sì guarda Una cosa che ci siamo ripromessi Dopo che abbiamo chiuso Shelter Games È di non fare mai più Un gioco che non ci piace Cioè che non ci diverte Da registrare Esatto Quindi è proprio una cosa Che ci siamo sempre ripromessi Allora posso dire Più di una Allora mi piace The Sims Esperimenti Sociali Mi piace quello Del ristorante Mi piace Gli andare Roblox Roblox anche se abbiamo Fatto solo un episodio Mi piace tantissimo Anche Pokémon Go Mi piacciono tutte Leggete tutti Comunque sì Da quando Pokémon Go Sta arrivando a livelli Esperimenti Sociali Perché è troppo bello Poter interagire con voi In un altro modo Cioè adesso Voi ci vedete Alla nostra faccia è tutto Ma lì possiamo usare i movimenti Possiamo fare i scelmenti in giro Diciamo che sei più libero Siamo più liberi Ed è bellissimo Mi piace troppo Non è tanto il gioco in sé Che è fighissimo Ci sono erano tantissimo Ma è proprio anche Il poter fare quel genere di video Che è una cosa fantastica Allora Poi dobbiamo passare A delle domande Che a te piacciono un sacco Che c'entrano con i giochi E i film horror Lei è fissata con i film horror Li vuole vedere tutti Anche se non capisce Che fanno tutti schifo Non si arrende No che fanno tutti paura E poi non dormo per un mezzo No poi fanno Cioè da una decina d'anni I film horror Sono quasi sempre una delusione Mi interessa Infatti prendono dei voti terribili Lei ogni volta li guarda Rimane delusa Non dorme lo stesso Però vuole continuare a guardarli Io non so perché Io adoro l'horror in generale Comunque Gioco preferito ovviamente Until Dawn Sì Adesso poi ne parleremo meglio Esatto Ok Allora io poi vorrei dire Che non gioco molti giochi horror Perché ho paura Quindi se Se Steph li gioca con me Io li gioco Da sola no No perché davvero Outlast 2 Non dormo per tipo un anno Sono amante dell'horror Ma ho terribilmente paura E film preferito Come ha detto Li ho visti praticamente tutti Però Rack Rack Mi ha scioccato Profondamente Rack ragazzi Il primo è stato davvero bello Faceva paura per davvero Alcuni pezzettini Mi ha spaventato un sacco Mi ricordo ancora la scena Quando a un certo punto Stavano salendo le scale E cade all'improvviso Un cavolo di zombie O quel cavolo che erano Era un virus strano E lì mi aveva fatto Un sacco di paura Mi ricordo Tutto faceva paura a quel film Quello era davvero bello Per quanto riguarda i giochi Allora A noi piace Cioè ad esempio Avevamo fatto all'inizio Di questo canale Emily Wants2Play Ci diverte abbastanza L'horror Però è parecchio stressante Soprattutto perché A lei fa davvero paura Io sudo Inizio a sudare E cioè non vedo l'ora Che finisca il video Una cosa come Antildone Che non fa tanta paura Non fa tanta paura A me ad esempio Non aveva fatto minimamente paura Ma mi è piaciuto Per l'ambientazione Ci sono ancora tutti i miei stati Nella serie Guarda Mi è piaciuto tantissimo Ovviamente Ci abbiamo pensato pure Di rifarlo in questo canale Però Non sappiamo che sensazioni Potremmo trasmettervi Perché noi il gioco Lo conosciamo Abbiamo pure guardato Abbiamo controllato Se cambia davvero tanto il gioco E no ragazzi Non cambia così tanto Da poter avere delle emozioni Pure e reali Se lo dovessimo rifare Quindi diciamo Che ci piacerebbe Troppissimo Condividere con voi Un gameplay del genere Ma secondo noi Magari aspettiamo Qualc'altro horror Che ci possa piacere Esatto Se ne fanno un altro In quello stile Sarebbe perfetto Outters 2 ad esempio Perché tanto ci chiederanno Questa cosa Siamo indecisi Siamo indecisi Fai di sicuro paura In una maniera incredibile Ed è il motivo per il quale Siamo indecisi Ma se lo giochi da solo Io mi metto dietro la sedia Commento Ma non guardo Io la metterei così Abbiamo fatto tutto Ci siamo ricordati Tutto anche qua Ci chiedono anche Cibo preferito Cibo preferito C'è questa domandina e mezza Ci avevano chiesto anche Il gelato preferito Io le direi Ok gelato preferito Mi hai preso una passione Dall'ultimi anni E ovvero il cocco Ne sto mangiando tantissimo Di gelato al cocco Quindi direi quello Tu gelato preferito Qualsiasi cosa che sia la frutta Ok Cibo preferito Lo sapete già Non c'è bisogno di dirlo Pizza Tutte le verdure Tutte le pizze Io mangio Possibili immaginari Un sacco di verdure Mi piacciono tutti i tipi di verdure Quindi non saprei scegliere Tutte le verdure Che schifo Io sono banale nel cibo E i dolci E i dolci E i dolci Dolci e verdure Esatto Questa è la mia alimentazione Altra domanda che riguarda i videogiochi Credo l'ultima per i videogiochi Ed è riguardante Life is Strange Ci avete chiesto Se abbiamo intenzione di fare nel canale Una World True su Life is Strange Ho qualche gioco simile a questo Cioè che sto sempre chiara 34 Sinceramente Noi ci stiamo pensando Da circa 3 mesi A questa cosa Ci piacciono tantissimo Life is Strange The Walking Dead Ce ne sono 2000 Che non mi stanno avendo in mente Però Go home Anche ci piacerebbe insomma Farlo Ma non sappiamo Se vi potrebbe piacere Quindi diciamo che Sarebbe una controdomanda per voi Partirei dal Life is Strange Quindi se volete vedere Una World True di Life is Strange Ovviamente quando finisce Pokémon Perché adesso Non ci sarebbe tempo Abbiamo tutti i giorni occupati Quindi stiamo facendo tantissime serie Soprattutto ora che è arrivato Pokémon Sì È comunque un gioco che si è aggiunto Quindi diciamo che magari Se le dobbiamo fare Le iniziamo Quando abbiamo finito Alcune serie Perché non possiamo Aggiungerne altre Esattamente Quindi fateci sapere Se è una cosa che vi piacerebbe O se avendolo anche già viste tutto Pensate che vi potrebbe un po' Annoiare Che non vi potrebbe Interessare troppo Di domande Una dopo l'altra Super veloci Allora Maria Luna Sangue dolce Qual è la città che preferite In Italia Immagino che ce l'abbia chiesto Quindi in Italia Firenze Senza dubbio È la città davvero Che trovo più bella Di tutta l'Italia La trovo davvero Meravigliosa È troppo bella È troppo bella È bellissima Vorrei vivere lì Perché Allora Io come città che preferite Mi limito a rispondere In base a quelle che ho visto Perché ovviamente Alcune magari Pensi che ti potrebbero piacere Però se non le visite È un po' diverso Vedere le immagini su Google Mettiamola così E dico anche Firenze Domanda successiva Fatta da distruttore Come fate ad essere così belli Mangiamo tanta Nutella Appena ci geliamo Ce la mettiamo anche un po' in faccia Come maschera No basta Non lo so perché non siamo belli Io rispondo così Rispondo così Poi prossima domanda Come fate Se sempre felici Simpatici Giovani Avete una mascotte Oltre a stare e Niki La prima è sempre Nutella La prima è sempre Nutella E poi A parte gli scherzi Semplicemente Quello che vi abbiamo detto Ovvero fare quello che ci piace È davvero importante Ci siamo diciamo Tolti un po' Tutto quello che nella nostra vita Non ci piaceva Certe amicizie Certe cose che eravamo Un po' obbligati a fare Ma che in realtà Non ci piacevano Insomma ci siamo liberati Di tutto quello che ci dava fastidio Ma che sopportavamo E che ci metteva di malumore E che ci metteva di malumore E ci siamo tenuti Soltanto tutto quello che ci piace In pratica siamo rimasti da soli Perché ci bastiamo a vicenda Sì esatto Alla fine non facciamo niente Di quello che non ci piace Quindi probabilmente Siamo sempre felici Perché anche su YouTube Facciamo sempre giochi Che ci piacciono Quindi come si può Non essere felici Esattamente Mascotte Oltre a stare e Niki No al momento Non ne abbiamo altre Sono sicuro che comparirà Qualche altra mascotte in futuro Io avrei voluto sempre Una mascotte come animale Lo so però Però non mi viene in mente nulla Perché faccio schifo A livello di fantasia Però sarebbe bello Sarebbe bello Prossime domande Queste sono un pochettino Allora Quale casa vorreste essere smistati Se foste a Hogwarts Qua a Grifondoro Tutta la vita Grifondoro Sono i più fighi Dai sono i più fighi Anche perché io avevo giocato Pure al videogioco Anche io Anche io Mi ricordo ragazzi Sono una posta di dieci anni Anche io Dall'ambientazione bellissima E l'ambientazione Delle stanze Dei Grifondoro Era qualcosa di unico Che ancora ricordo Assolutamente Non c'è paragone E comunque ci piace tantissimo Il riporto Infatti abbiamo tutti I blu ray in casa E ogni tanto lo riguardiamo Oltre i manga nella libreria Abbiamo i DVD Delle cose che ci piacciono Abbiamo sì Il cofanetto con tutti i DVD Di Harry Potter Esattamente Questo lo vorrei dire Colore preferito Rosso E quasi tu che copri me Perché un maschio È normale che sia rosso Una ragazza no? Allora io Io ti dico una cosa Io da bambina Avevo tutto rosso Tipo avevo gli stivaletti rossi Tutte le scarpe rosse Quindi non mi puoi dire Filtro del microfono Rosso No è fucsia questo Siede al tono A me sembra rosso No 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 È fucsia È fucsia E infine vabbè Supereroe Supereroe preferito Che abbiamo risposto Già prima No 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 Allora ci diceva Hai letto male Superpotere Ah Superpotere Forse rimango Sempre su Flash Superveloce Volare Per poter viaggiare Così non dovrei Prendere l'aereo È una genialata Preferisco volare io Che volare in un aereo Ma magari I petischianti No non mi schianto Perché sarei bravissima A volare Sì 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 Prossima domanda Se foste agli Hunger Games Tra personaggi di videogiochi O film Chi portereste con voi Vi adoro Mi potete salutare Per favore Un bacio Ciao Sofia Piacitelli Allora Per quanto riguarda Hunger Games Tra personaggi di videogiochi E film Io Lo dico proprio La butto lì Joker di Batman Perché ha una mente Diavolica In un Hunger Games Dove serve E fare dei tranelli Delle trappole Ce lo vedrei benissimo E poi si divertirebbe tantissimo E mi divertirei Insieme a lui A far esplodere gente Quindi proprio Vai su un qualcosa di malefico Sì Io ci ho pensato Quando ho letto Stato domande Mi è venuto in mente Nathan di Uncharted Di Uncharted Sì perché Perché è fighissimo Sa fare un parkour incredibile Sa fare un sacco di cose E' super intelligente Quindi penso che In una situazione Come gli Hunger Games La saprebbe cambiare Molto molto meglio di me Quindi vorrei lui E perché è bello Ok Ok Mi sono accorto adesso Che abbiamo finalmente Finito tutte le domande Ovviamente Non so se l'avete capito già Ma divideremo in due Questo fuck Perché Perché dura tipo Un'ora e mezzo In questo momento Ne vediamo un'ora e dieci Di registrazione Ovviamente ci saranno Un po' di tagli Quindi un pochettino Meno durerà Però dobbiamo per forza Dividere in due parti Siamo felici di aver risposto A tutte le domande Secondo me ci siamo dimenticati Qualcosa Guarda Qualcosina Qualcosina Potrebbe essere Anche perché ragazzi E' sempre scomodo Per youtube Perché non tutti avete usato Gli hashtag Quindi abbiamo dovuto Cercare noi Quindi qualcosina C'è suggetto Magari anche leggendole Secondo me Guarda Chiedo già scuse In anticipo Perché secondo me Sono state tantissime Qualcosa ce la siamo dimenticata Esattamente Ovviamente Continuate a farci domande Faremo il prossimo Speriamo di non dover Ricordiamo l'hashtag Domande belle Domande belle L'hashtag Speriamo di non dover In pazienza con i tanti E grazie mille Perché è stato bellissimo Registrare questo video Super divertente E siamo felicissimi Ci vediamo al prossimo video Ragazzi Ciao ciao Ciao